Democrazia sovrana popolare, ci vedrete molto poco ma ci siamo. Io Marco Rizzo sarò candidato capolista al centro Italia, nel Lazio, nella Toscana, nelle Marche, nell'Umbria. Abbiamo una proposta molto semplice, essere contrari alla guerra per davvero ed essere per la sovranità nel nostro paese partendo dai temi del lavoro che accomunano ormai la classe lavoratrice con gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, i professionisti, tutte le persone che vivono del proprio lavoro e si devono abbattere contro lo strapotere delle multinazionali che vengono in Italia, non pagano le tasse, prendono i nostri marchi, prendono i soldi dallo Stato, delocalizzano e se ne vanno. Purtroppo servirebbe una politica italiana ed europea diversa, ma l'Europa, sappiamo, è molto matrigna nei confronti dell'Italia. Democrazia sovrana popolare, ci siamo.